Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi parliamo di Maria, o Mary all'inglese, di Tec, la regina madre che leggendariamente aveva il ghiaccio nelle vene. Victoria Mary, pur avendo il titolo tedesco di principessa di Tec, era nata e vissuta in Inghilterra. Sua madre, Maria Adelaide di Cambridge, che apparteneva alla famiglia reale inglese, era cugina della regina Vittoria, mentre il padre, il principe Francesco di Tec, era nato da un matrimonio morganatico che lo escludeva da ogni possibilità di successione al regno di Wittenberg, così come contrarre un matrimonio conveniente con la maggior parte delle principesse reali d'Europa. Prima di proseguire il racconto e parlare di Mary, di suo marito Giorgio V e della nipote, l'attuale regina Elisabetta, lasciatemi chiedere a quei sei spettatori su dieci che ancora non sono iscritti, ormai celebri in tutta la community di Vanilla, di iscriversi al nostro canale. Non fateci ghiacciare le vene con la vostra teutonica freddezza, ma dateci la soddisfazione di fuggire all'oblio mediatico su YouTube anche parlando di storia, cultura e leggende. Grazie mille. La madre di Mary, Maria Delaide, era conosciuta come Fat Mary per la sua corporatura non proprio snella e all'avanzata età di trent'anni era ancora zitella. Non era esattamente quello che si poteva definire un buon partito, ma il matrimonio con Francesco fu comunque combinato sorvolando sull'aspetto poco attraente di lei e sulle scarse risorse economiche di lui. Si sposarono nel 1866 e nel 67 nacque Victoria Mary, che in famiglia veniva chiamata May. Quando fu il momento di trovare una moglie per Alberto Vittorio, primogenito del principe di Galles, Edoardo, il futuro re Edoardo VII, e di Alexandra di Danimarca, Mary non fu inizialmente presa in considerazione. Prima di lei venero interpellate la principessa Alex Dassia, nipote di Vittoria e futura moglie dello Zarnicola II, che lo rifiutò, e poi la bellissima Elena di Orlean, che divenne poi moglie di Emanuele Finiberto d'Aosta. I due si erano proprio innamorati, lui era disposto a rinunciare al trolo pur di sposarla, lei accettava da cattolica di convertirsi alla chiesa anglicana. Non ci fu nulla da fare, la regina Vittoria si era anche convinta, ma il padre di Elena fu irremovibile. Non poteva assolutamente accettare quella conversione, come fece del resto anche il papa, che minacciò la scomunica. Mary di Teck era un membro minore della Casa Reale, ma la regina Vittoria lei era affezionata, e così nel 1891 lei e Alberto si fidanzarono e il matrimonio fu fissato per l'anno seguente. Alberto Vittorio era una figura piuttosto controversa. Molti sono stati pettegolezzi sulla sua omosessualità o bisessualità, su relazioni equivoche, e si arrivò perfino a sospettarlo di essere già con lo squartatore, ma la sua assenza da Londra nei giorni degli omicidi rende l'accusa priva di fondamento. Pettegolezzi e illazioni a parte non era sicuramente un ragazzo brillante né negli studi né nella carriera militare. Lo zio lo definiva un perditempo. Forse a Mary andò meglio così. Nel gennaio del 1892 Alberto Vittorio, sei settimane dopo il fidanzamento, morì di una febbre influenzale. Anche qui i pettegolezzi si sprecarono, tutti probabilmente infondati. Chi lo voleva morto di sifilide, chi ucciso per escluderlo dalla successione per via della sua fama poco limpida. Durante la permanenza a corte di Mary, all'epoca del fidanzamento, Giorgio, fratello minore di Alberto Vittorio, si innamorò o comunque ebbe molta simpatia per la ragazza, e la regina Vittoria ne approfittò per favorire un nuovo fidanzamento e matrimonio nel 1893. Mary non era quel che si dice una bellezza, ma piacevole, dalla bella figura e molto riservata, apparentemente fredda e severa. La coppia era praticamente perfetta, anche Giorgio era timido e riservato. Gli sposi misero al mondo sei figli, ma l'ultimo, John, venne tenuto lontano dalla famiglia, escluso dalle foto ufficiali perché epilettico. Il ragazzo ebbe comunque vita breve, morì a soli 14 anni. Giorgio fu un padre severissimo, temutissimo dai figli. Quanto a Mary è difficile sapere se fosse una madre tenerissima, come veniva dipinta abitualmente anche dal figlio Edoardo mentre era in vita, o avesse ghiaccio che scorreva nelle vene, come ebbe a dire in seguito dopo la morte della madre in alcune lettere private. Sicuramente, nonostante l'effetto che ci sarà stato, i sovrani furono genitori assenti, probabilmente distratti dagli impegni della corona. Si accorsero con molto ritardo, ad esempio, che la bambinaia maltrattava i due figli maggiori. I loro figli maschi, forse a causa dell'educazione severa e della mancanza di affetto, ebbero tutti qualche problema. L'insicurezza di Edoardo, sempre alla ricerca di donne dal carattere forte a cui appoggiarsi, quasi sempre sposate, con una virilità messa in dubbio. Alberto, poi Giorgio VI, oltre al carattere insicuro, era anche balbuziente, come il fratello Harry, che aveva anche una forte propensione all'alcol, e poi Giorgio, bisessuale e cocainomene, e collezionò infinite relazioni, anche scandalose, nonostante il matrimonio con la principessa marina di Grecia. Gli impegni di Giorgio e Mary erano davvero tanti, già come duchi di Cornovaglia e di York. Alla morte della regina Vittoria, con Giorgio, nuovo principe di Galles, aumentarono notevolmente. A gennaio del 1901, la coppia partì per un viaggio nei territori dell'impero che durò otto mesi. I bambini restarono con i nonni. Negli anni seguenti Mary seguì il marito in quasi tutti i suoi viaggi, e nel 1905 partirono per un tour dell'India di altri otto mesi, seguiti immediatamente appena rientrati da viaggi in Spagna e Norvegia per l'incoronazione della sorella di Giorgio, Maud, e del re Akol. Impegni ufficiali a parte, i futuri sovrani conducevano una vita molto tranquilla, lontana dalla corte. Furono sempre una coppia unita ed affiatata, non si conoscono relazioni o flirt o anche solo simpatie di Giorgio, o tantomeno di Mary per altre persone. Nei pochi periodi che passarono separati, Giorgio le scriveva tutti i giorni delle lettere nelle quali riusciva a esprimere, meglio che a parole, i suoi sentimenti per lei. Era decisamente molto diverso dal padre, che aveva avuto numerosissime amanti. Nel 1910, alla morte del re Edoardo, divennero i nuovi sovrani e vennero incoronati nel 1911. Mary sostenne sempre il marito, aiutandolo con i discorsi e la conoscenza della storia inglese, ma restando sempre nell'ombra. Aveva un carattere inflessibile e prendeva molto seriamente il ruolo di regina consorte, sempre calma e sicura negli impegni ufficiali, anche nei momenti difficili del primo dopoguerra, ma non riscosse mai le simpatie di cui aveva goduto la suocera Alexandra, proprio per la sua apparente freddezza e severità. Non divenne mai nemmeno un esempio di eleganza, gli anni passavano, ma lei non cambiò mai stile. Ci provò, per la verità, dopo la guerra fece un tentativo di accorciare le gonne mostrando le caviglie, ma Giorgio ne fu inorridito. Gli orli scesero subito e non si sollevarono mai più. Verso la fine degli anni venti la salute di Giorgio cominciò a declinare, aveva problemi ai polmoni e lei lo curò amorevolmente. Tanto erano legati che nel discorso del giubileo d'argento nel 1935 Giorgio ammise pubblicamente di dovere tutto a lei. Giorgio morì il 20 gennaio del 1936, dopo un'iniezione di morfina e cocaina, che forse rappresentò una delle prime eutanasie. Mary diventava così la regina madre, ma per lei fu sempre usato il nome di Queen Mary. Con la sua morte si aprì la peggior crisi della storia della famiglia reale inglese. Il successore di Giorgio fu il primo genito Edoardo VIII, che annunciò di voler sposare la divorziata americana Wallis Simpson. Un matrimonio impossibile che lo mise di fronte a una scelta difficile, o l'amore o la corona. Lui scelse l'amore, abdicò dopo neppure un anno di regno, andò in esilio e si sposò l'anno seguente. Mary non perdonò mai Edoardo per aver rinunciato al trono e i suoi doveri per assecondare i suoi desideri personali. Mary, che aveva conosciuto Wallis, dopo la crisi rifiutò sempre di incontrarla. Dall'abdicazione di Edoardo, tutte le attenzioni si rivolsero verso il figlio Alberto, divenuto re col nome di Giorgio VI, e sulle nipotine, Elisabetta e Margaret. Nel 1952 morì anche Giorgio VI, era il terzo figlio che Mary perdeva, dopo il piccolo John e Giorgio, morto nel 1942 in un incidente aereo, senza contare Edoardo, che forse considerava più morto degli altri. Al trono salì la nipote Elisabetta. Mary morì nel 1953, poco prima dell'incoronazione della nipote, e nelle sue volontà scrisse che la cerimonia non doveva venire riviata, dedita al dovere fino all'ultimo. Edoardo, ora duca di Windsor, partecipò al funerale della madre in una delle rare occasioni nelle quali tornò in Inghilterra. Mary è sepolta a Windsor nella campella di San Giorgio, insieme al marito. Una curiosità sulla regina Mary. Fu una grande collezionista e molto amante dei gioielli. Gran parte dei gioielli della corona russa, di Maria Feodorovna e di Alexandra Feodorovna, rispettivamente madre e moglie di Nicola II, furono acquistati da lei. Aveva anche una passione per le miniature che esponeva nelle case delle bambole, tuttora sono famose le Queen Mary Dolls Houses. Aveva anche un vizio particolare. Quando andava in visita della dimora di qualcuno e notava qualcosa di suo gradimento, scriveva lettere di ringraziamento ai padroni di casa, ricordando quanto avesse ammirato quell'oggetto particolare. I padroni di casa si affrettavano quindi a farglielo pervenire in regalo. Chiese anche in restituzione tutti i pezzi della Royal Collection che negli anni erano stati prestati a musei o esposizioni. Alla regina, chi poteva dire di no? Grazie a tutti.